Porca miseria! Probabilmente sto a fare una cazzata a fare questo video perché per ora in due anni ancora non sono riuscito a sputtanarmi così tanto. Però è doveroso. È doveroso perché lo sento proprio dentro di me. È una delle mie missions sui social, e chi mi segue lo sa. Non è possibile che nel 2023, se io mi metto una maglietta del genere, sono considerato, non lo so, ditemelo voi che sono considerato, dato che quella poraccia, quella porafia, la sorella di Giulia, dopo che ha detto, insomma, la sua sulla vicenda, gli è arrivata una shitstorm dicendo appunto che oh mio Dio, è satanista! Guarda che maglietta che sta indossando! Tu devi ringraziare Dio, tu devi ringraziare Dio che io adesso non ho la maglietta degli Iron Maiden, se no me la sarei messa. Nel 2023, signori, stiamo ancora parlando di queste cose. Allora, questo video io lo sto facendo per andare su Facebook. Adesso vediamo un attimo come devo comportarmi, perché su YouTube io in teoria non ho bisogno di parlare di queste cose, dato che comunque sia ho una community molto affiatata, molto matura, che questi argomenti ormai chi sceglie di seguirmi lo sa. Io infatti non mi sto rivolgendo alla mia community, perché io conosco chi mi segue e lo conosco molto bene. Io mi sto rivolgendo a voi, analfabeti funzionali del cazzo, a voi che state il popolo di Facebook che state qui, che additate una porafia, una ragazza di essere satanista per cosa? Ma dove vivete? Ma se può sapere dove vivete? Avesse fatto qualcosa. Ricordatevi una cosa, ricordatevi una cosa? Che quella poraccia Giulia non l'ha ammazzata? Non l'ha ammazzata? Un ragazzo che indossa una maglietta coi teschi, perché poi si ha mai, si ha mai! Si ha mai l'aveste ammazzata uno che aveva una maglietta coi teschi, cosa che macello che succedeva? L'ha ammazzata un ragazzo normale, vestito bene, e voi ve la state a prendere con quella porafia che è solo vittima di questo problema, di questa società di merda? Ve la state prendendo. Ma voi vi rendete conto del cervello bacato che avete? Cioè del cervello bacato? Nel 2023 io, io, Frank Hortzman, sono costretto a fare un video del genere. Siamo fuori di testa. Siamo fuori di testa. Sono anni io che sto su YouTube, per chi mi conosce lo sa, a cercare in tutti i modi di sdoganare il black metal per far capire alle persone come voi, che noi, anche se ascoltiamo black metal, non siamo satanisti, non siamo persone cattive, e nel black metal non esiste solo il satanismo. Per chi mi segue lo sa, io non ho mai parlato, cerco sempre di portarvi i gruppi che non parlano di satanismo sia su YouTube che su Instagram. Eppure, nel 2023, muore una ragazza di 20 anni per femminicidio. la cosa invece di stringersi attorno alla famiglia e dire, guarda che la sorella poraccia c'ha avuto una cosa, cioè c'ha avuto una perdita veramente enorme, noi andiamo a vedere la maglietta della sorella con un pentacolo grosso così, ecc. perché, oh mio dio, ma questa, ma questa che c'ha sta maglietta. Oh! Ma vi rendete conto che se il mondo è uno schifo, è uno schifo, è colpa vostra, è colpa vostra. Nel 2023, analfabeti funzionali del cazzo. Un abbraccio, regà, a tutta la famiglia di Giulia, che sto vicino, regà. Io sto video, regà, non lo volevo fare, cioè non lo volevo fare perché saranno parole che effettivamente dicono tutti, però, regà, la mia mission è questa, cioè cercate di far capire che non esiste, che non esiste una cosa del genere. Poi mi trovavo a riscontrarmi con gente nel 2023, come vede un pentacolo, una croce rovesciata. Oh, state fuori, state fuori te, capoccia. A me non mi sembra che quella figlia ha ammazzato qualcuno, eh. Oh, namo, sveglia, sveglia, regà. Poi, effettivamente, io, purtroppo, dentro questo ambiente, c'è stata una vita, c'è stata una vita a combattere con chi mi conosce, con i miei genitori in primis. Perché ogni volta che torno a casa con una maglietta del genere mi sento di, oddio, una maglietta nera, una maglietta coi teschi. Eppure io il mio lo faccio. Io il mio lo faccio per cercare di rendere veramente questa società un posto migliore di quello che ci stanno dando. Sto veramente in prima linea su tutto. E non è possibile che le persone che stanno in prima linea indossano magliette con i teschi. E quelle, vestite in bene, quelle tutte che si presentano o no, ammazzano le persone. Fatevi due domande, regà. Fatevi due domande. Vi dovete fare due domande. Dovete capire che dovete cominciare a usare il cervello. Non potete stare a sentire il primo che dice la cosa di comodo per sbinuire tutto quello che ha passato con la apografia. Che ora si troverà a passare perché veramente adesso arriva il difficile. Adesso arriva veramente la cosa più difficile perché adesso inizierà la vita senza della sorella. portata via dalle mani di un pazzo criminale poi. Regà, mi dispiace, mi dispiace per lei. Sta shitstorm non sarebbe mai dovuta arrivare. Non ha senso proprio di esistere. Non ha senso di esistere. Te so vicino con tutto il cuore veramente. Spero che questa cosa possa passare. Anche perché poi, regà, io vi ricordo una cosa. Io vi ricordo una cosa. Da inquisitore voi non avete imparato un cazzo. Voi non avete imparato un cazzo. Ma dove avete che è successo a inquisitore? Tanto l'avete sentito sui telegiornali, no? L'avete sentito. Perché tanto voi le notizie le sentite solo da telegiornali. Non le vivete voi. Non le vivete in prima persona. Perché noi lo sappiamo da molto prima di voi. Perché quel poraccio, tanti di noi, tanti di noi millennials e giù di lì, lo seguivano, per povero Cristo, sui social, su TikTok. La notizia è arrivata molto prima sui social che sui telegiornali. E voi non l'avete vissuta come l'abbiamo vissuta noi. Quindi cominciate a fare due domande su che mondo state a vivere e su che mondo volete vivere voi. Perché siete voi che volete vivere in quel mondo di comodo. Quel mondo che fa comodo a voi. Perché c'è quello in televisione che magari dice quello che voi volete sentirvi dire. Ma non vi dice la verità. Non andate a cercarla questa verità. La verità non fa comodo a voi. La verità tante volte fa male. E fa malissimo. La verità è che quella povera figlia, Giulia, è morta. E voi state, voi state continuando a infilare il dito nella piaga. Nel dolore che stanno provando i familiari. Scrivendo quelle cose. Un abbraccio, regà.